a napoli in galleria di andrea ingenito napoli per me è un'emozione particolare perché è napoli e quindi come tale fare una mostra napoli significa entrare in un clima diverso da quello romano il mio rapporto con napoli nasce da quando avevo ancora 12 13 anni ed ero scappato di casa per andare a fare la guerra in africa lì fu la mia prima conoscenza della città da cui fui preso immediatamente è chiaro che il rapporto con napoli molto complesso non è facile non è cosa semplice dire come si entra in rapporto con napoli ci si entra con amore ma nello stesso tempo con rabbia per quanto si potrebbe fare per napoli e non lo si è fatto rimane però il fondo sempre una città meravigliosa non non non